Buon pomeriggio, questa sera alle 20.50 Rai 1 presenta Gigi Proietti in Il Maresciallo Rocca con sottotitoli alla pagina 777 di Televideo. Alle 22.40 TV7, settimanale di attualità del TG1. 23.40 alla lunga marcia dell'Aida e di Palermo. A mezzanotte 20 potrete seguire le notizie del TG1 Notte. E a mezzanotte 40 speciale sottovoce, Gigi Marzullo incontra Flora Carabella, io signora Mastroianni. Buon proseguimento di pomeriggio.